di Letta Zipoli e vengo da Prato. Mi hanno consigliato di iscrivermi e ho voluto provare per fare un'esperienza. A livello di concorsi ho vinto un concorso per quanto riguarda il Keller, poi comunque non ho mai partecipato a grosse competizioni, ho sempre cercato di stare lontana da queste cose, però invece ultimamente sto cercando di guardarmi intorno, fare esperienze nuove diciamo. Grazie per la visione!